e si è andato un po' indietro orologio alziamoci vai, vai avanti rizzoom parallelo, come ti ha insegnato Petra? vai agli altri salti, come ti ha insegnato Petra vai avanti tu, che ti faccio la ripresa vai, bravo bravissimo bravissimo bravo guarda come va bravissimo bravissimo attento, attento vai Antonio, se no aspetta che parto allora ok vai per tu aspetta la signora vai Antonio per adesso vai vai bravo vai 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 parallelo parallelo paralleli vai 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 e giù forte spingi sulle gambe adesso vai 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 Paralleli, braccia in alto, come ti ho detto bene, braccia in alto. Bravissimo, braccia in avanti, bravo, attento chi viene da sopra. Bravo, bravo. Zombra. Grazie. 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 Grazie.